Ancora, 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 in onda, cari amici La mia vita di imprenditore mi ha insegnato quanto io abbia pagato per avere rapporti con una donna e prestazioni sessuali A me piace con i giovani, a casa mia, ho avuto uno stabile rapporto con una persona, minorenne per un intero giorno nella casa di Arcore Di tutte e di più, tutti i partecipanti a quelle serate hanno rilasciato al riguardo dichiarazioni che sono inequivocabili Di Colminetti è stata piegata da me la finalità di carattere sessuale Impiegando in queste operazioni la persona minorenne più di cento uomini E sono orgoglioso di averlo fatto, lo voglio ripetere, mi piace circondarmi di giovani Con l'individuazione di tutti i loro numeri telefonici, a tutti rapporti sessuali, a centinaia A me piace venire a casa mia e continuerò a farlo Un impegno di forze che è degno di una rettata contro la mafia In conclusione, una casta di privilegiati può commettere ogni abuso a ganno di altri cittadini senza mai, mai doverne rendere conto Dillo così, con quella forza che ha solamente, che è puro di mente Presidente siamo con te, meno male che Silvio c'è Presidente questo per te, meno male che Silvio c'è Grazie 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 Grazie